ragazzi buongiorno buon giovedì oggi è un giorno in cui sarà un lavoro da fare diciamo il lavoro in classe lo fate ovviamente siamo a casa e sarà su una serie di esercizi che vi manderò di diverso tipo dal presente al passato individuare il passato in un testo sono diversi esercizi che ci serviranno perché in questa maniera la settimana prossima andiamo un po più avanti sempre con il programma e finiamo questo grande ripasso delle ultime cose che abbiamo fatto insieme quindi io farò degli esercizi di questo genere saranno quindi sul scillocativo sarà su visto che dato che ok i passati prossimi numero uno e due più gli e gli irregolari passato prossimi due più irregolari e facciamo altri esercizi sui pronomi e sono stati un po i problemi generali con i voti un po più bassi ok quindi questa prova alla prova di domani cioè scusatemi la prova che dovete fare oggi per consegnarmela se ce la fate domani è la cosa migliore questa qua avrà una nota mi raccomando ma tanto faremo altre note anche la prossima settimana abbiamo tutto il tempo per recuperare anche i brutti voti quei 4 quei 6 quei 5 quei 7 e mezzo che avete preso ok vi mando io quindi degli esercizi su di questo qualsiasi domanda ovviamente mi scrivete buona giornata quindi